Sale il calvario del potere. E tutti lo sappiamo. Il leader stravince le elezioni. Sale il calvario del potere. Dopo aver deluso, accetta la berlina della folla, abbraccia il patibolo delle nuove elezioni, si svena di voti e infine geme nella tomba dell'ublio. Perché? Commento. Perché esegue il tragitto dell'Io.